Il Consiglio regionale a Tardanotti ha approvato a maggioranza la legge di stabilità e il bilancio di previsione, manovra da 14 miliardi, raggiunto il completo ammortamento del disavanzo relativo al 2014-2015, che alla data di insediamento di questa amministrazione regionale ammontava 450 milioni di euro. Questo ha consentito di liberare risorse da destinare ad interventi importanti, risorse sostanziosi per l'edilizia sanitaria con ulteriori 53 milioni, con decorrenza dal 2026, altri 30 milioni per il cofinanziamento di programmi nazionali e comunitari, maggiori dotazioni per il servizio di trasporto pubblico locale per circa 30 milioni di euro, copertura integrale del contratto di servizio con Trinitalia e S.P.A. per oltre 686 milioni di euro nel decennio 2023-33, interventi di manutenzione per l'assetto del territorio per circa 18 milioni, stanziamento di ulteriori 7,5 milioni per iniziative ed eventi in ambito sportivo e turistico, stanziamento di 5 milioni di euro per le borse di studio, 12 milioni per la protezione civile, c'è l'incremento pure delle dotazioni alla FIRA S.P.A. per interventi nell'ambito dello sviluppo economico per ulteriori 600 mila euro e poi 36 milioni di euro per la definizione di posizioni debitorie risalenti alle annualità pregresse. La legge di stabilità prevede inoltre il rifinanziamento di tante leggi regionali in tanti campi di azione. Un emendamento tra i più sostanziosi è quello che prevede un finanziamento destinato alle imprese agricole che hanno avuto danni da maltempo, circa 13 milioni di euro. Uno strumento importante, intanto noi chiudiamo tutti i debiti che avevamo ereditato, lasciamo quindi un'amministrazione sana senza debiti, prevediamo le coperture anche decennali, ad esempio per il contratto del trasporto pubblico ferroviario con Trenitalia, il contrario di quello che io ho trovato, perché in questi anni abbiamo dovuto più volte manovrare sul bilancio per dare copertura di diversi milioni rispetto a contratti che altrimenti non sarebbero stati onorati. Quindi è una regione più forte, una regione che ha oggi la capacità finanziaria di tornare a fare anche investimenti attraverso l'accensione di mutui, è una regione che quindi consegniamo alla prossima legislatura con i bilanci parificati, sanati, abbiamo ereditato 4-5 anni di bilanci e di rendiconti non approvati e non parificati dalla Corte dei Conti, quindi un percorso di risanamento e di rimessa in carreggiata dei conti pubblici molto molto importante. Tra questi segnalo quelli della sanità che sono la parte più importante del bilancio regionale che abbiamo chiuso in questi anni sempre in pareggio utilizzando i fondi del Fondo Sanitario Nazionale a differenza di altre regioni.